Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di domani all'Angelini tra Chieti e l'Aquila. Fischio d'inizio alle ore 15, valida per la terza giornata del girone F di Serie D. I tifosi rosso-blu in meno di 48 ore hanno polverizzato i 280 biglietti a loro riservati nel settore ospiti, ma saranno molti di più i sostenitori aquilani perché il Chieti, su indicazione degli organi competenti, ha reso libera la vendita dei biglietti anche per la tribuna. Il club teatino intanto ha chiuso la campagna abbonamenti con 850 sottoscrizioni, dato record nella storia recente del club. L'arbitro designato è Simone Palmieri della sezione di Avellino. Rispetto alla trasferta di Ascoli, il Chieti tornerà al 4-3-3, Ardemagni e Diambò in gruppo e pienamente recuperati. L'ex Pescara partirà dalla panchina, il bomber dovrebbe essere invece nella formazione titolare. Certa una maglia per Forgione e Vesi, entrambi al ritorno dopo la squalifica. La grande novità potrebbe esserci in attacco con Barlafante che scalpita per un posto da titolare. L'Aquila dovrebbe confermare la formazione tipo e lo stesso 11 che ha battuto il Matese all'esordio. Sarà ancora 4-3-3 per Epifani con il tridente Banegas-Galesio-Bacio-Terracino. L'unico assente resta lo squalificato Persiani che deve scontare l'ultimo turno di stop. Due gli ex, oltre a Del Pinto c'è anche Alessandro che ha indossato la maglia del Chieti nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013. Il derby Chieti-L'Aquila sarà trasmesso in diretta su Rete8. I collegamenti inizieranno alle 14.30, dalle 15 la diretta del match e alle 17 circa. Spazio alle interviste live dei protagonisti.